Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere le nuove palette rossetti della L'Oreal Le Colorish Palette Questa è la prima, Caution Adorable Kiss Ed è una palette sui nudi I toni sono questi Questa è la confezione della palette Io l'ho presa all'esse lunga, però non mi ricordo proprio il prezzo Perché io perdo gli scontrini E vabbè Questi sono gli ingredienti Vi faccio vedere prima gli ingredienti Sono sei rossetti, ognuno da un grammo Hanno una scadenza di 24 mesi dall'apertura Io le ho prese tutte e due Sia la nude che questa qua Vedete sono sei rossetti Ovviamente sono in crema C'è lo specchietto e il pennellino E il premo Il colore lo vedete, non si vede proprio niente Il secondo si vede Allora 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 Questo è il primo Quello più chiaro Questo è il secondo Questo è il terzo Questo è il quarto Questo è il quinto E questo è l'ultimo Però diciamo Dovete molto insistere Perché i colori Non sono belli scriventi In pratica Sono una vera schifezza E questa non è una bella palette Questa chiara Vediamo la seconda Poi ho preso Hot Kisses Che è quella sul rosso I colori sono questi Questa si spera che I colori siano I colori sono questi Sembrano anche più scuri Adesso vediamo Ecco Questi colori si vedono molto meglio Sono più scriventi Come vedete Sono tutti belli Quindi La prima palette per me È bocciatissima Bocciatissima Perché la maggior parte Dei colori non si vedono Questa è ok Perché anche se tu Mi metti comunque I colori nude Però un pochino Si devono vedere Invece cavolo Il primo non si vede proprio Bisogna proprio Schiacciare enormemente Per Per prendere il colore Non è possibile Con questo vi saluto Ciao a tutti Spero che Vi piacciono le novità Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti